Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia, arriva il digitale Questo è Digitalia Settimana del 3 luglio 2023, Twitter si fa gli attacchi di DOS da sola Il pensionamento del Game Boy di guerra, l'euro digitale prende la rincorsa Ma anche Waze, Stitcher, Snowden, questo molto nato di scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana Dallo studio di Gure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio E dallo studio di Milano, Michele Di Maio A ranghi ridotti ma sempre presenti, non si manca mai all'appuntamento Buonasera Michele Assolutamente, poi vado in breach of contract, poi mi arrivano le penali Tipo il doppio del mio gettone per Digitalia Il nostro Facconi dovrebbe essere con noi ma ha tirato bandiera bianca all'ultimo momento Per un problema, vi racconterà lui se vorrà la prossima volta Niente di grave, niente di drammatico, sarà presto di nuovo con noi Gli facciamo gli auguri di veloce recupero I nostri migliori auguri Migliori, i migliorissimi I migliori, quelli che abbiamo Michele Ti faccio una sorpresa Perché ho avuto anche una sorpresa Ho avuto su Slack Mi è arrivato un reminder Ok Che mi ha ricordato che su Slack si possono mettere i reminder Che sono molto utili Un anno fa Un anno fa Più o meno Il 27 luglio del 2022 Quasi un anno fa In seguito a un messaggio che hai postato tu Che arrivava da Reddit Mi sono messo il promemoria di chiedere a Michele Come stanno andando sti NFT Perché Michele mi scrive From Carondimonio Via RR Italy Siamo su Reddit ovviamente Ai tempi d'oro di Reddit Quando non era ancora fallito Madonna che goduria l'ultima puntata di Digitalia Con Mickey Six che nonostante la pazienza infinita Sbrocca quando il doc spara la solita cazzata Che chi compra NFT lo fa per amore della tecnologia Avrebbe sbroccato anche la reincarnazione di San Simeone l'ostilita Più 200 punti Ed è andata bene direi Però allora Apro una parentesi professionale Guarda Michele Apri tutte le parentesi che vuoi Che stasera dobbiamo riempire un'ora e mezza Adesso dobbiamo tirarla Apro una parentesi perché Per lavoro Io ho anche un lavoro C'è qualcuno che mi dà anche un lavoro pagato E mi occupo di CRM E una delle piattaforme di CRM più figa È Salesforce E io mi capita spesso di parlare con Quelli di Salesforce E di andare agli eventi di Salesforce Oh è l'unico momento In realtà non solo da Salesforce Ma in generale a tutte le conferenze Per addetti ai lavori In cui si parla di digitale In cui si parla di CRM Di dati eccetera eccetera Si parla ancora tanto di Web3 La mia impressione è che sono tipo Gli investimenti che hanno fatto due anni fa Che stanno cercando di far pagare Di far tornare Di far rientrare Sono quelli che hanno fatto fare gli investimenti Che stanno ancora cercando con le unghie Di non farsi licenziare Però ti dico Ci sono in alcuni di questi eventi Senza fare nome Ci sono stati delle persone Che lavorano in grosse aziende Del lusso e della moda Che raccontavano Che loro stanno comunque andando avanti Con gli NFT Con gli equivalenti digitali Su blockchain Dei loro prodotti Un po' come se fossero Dei certificati di garanzia Però come dire Arranghi molto ristretti Nel senso andando a Interfacciarsi con piccole comunità Probabilmente anche di appassionati Che vanno poi a A usufruire di questi prodotti Non tanto perché sono appassionati di moda Ma quanto sono appassionati Magari ancora di tecnologia Di web trade Allora è per amore della tecnologia L'hai confessato Nel loro caso È un po' amore della tecnologia Oppure anche l'amore del denaro E anche loro Che stanno cercando di rientrare Nei loro investimenti Anche le squadre di calcio Però c'è ancora chi ne parla Anche le squadre di calcio Ogni tanto tirano ancora fuori I loro fan token Però devo dire Con molta meno spinta di una volta Tante delle cripto Che hanno sponsorizzato Scuole di calcio Si sono tirate indietro Addirittura Ci sono stati dei Ci sono stati dei Degli Come dire Degli avvenimenti Neanche tanto piacevoli Tipo Se non ricordo male L'Inter È possibile che Dopo sei mesi Che non pagava Sponsor Hanno deciso di toglierlo Dalla maglietta Era sempre la tecnica Elon Musk Non pagare Il fornitore E certamente E che tra l'altro Apro e chiudo Un'altra parentesi Bitcoin Sopra i 30.000 dollari Non banale Non banale È così Non bisogna Poi Bam Bam Però è la storia Del È la storia del Bitcoin Ma NFT Non vuol dire Necessariamente Bitcoin Io lo sai No no La mia idea è stata Quella di mettere Un gruzzolo Non rilevante Sui Bitcoin E perderlo Agli esordi Perderlo Poi l'ho ricomprato E ho guadagnato Un franco di soldi E col primo botto Ne ho venduti La metà Che mi è servito Per arrivare A comprarmi la casa Senza fare un mutuo esagerato E Quelli che sono rimasti Li ho lasciati lì E quelli salgono Scendono So già che Prima o poi Un mio trisavolo Di 467 Generazione Parallela Incrociata O cosa Se li troverà Tipo Il baule Andiamo a scavare il giardino Per cambiare l'impianto O che cos'è Questo baule pieno Esattamente Una roba così Una roba così E Vabbè Non ho mai fatto il paragone Nell'ultimo anno ad esempio Leggevo oggi Che Apple Dopo l'anno scorso Che era andata malissimo Quest'anno ha fatto Più 40% In un anno Che Insomma È una bella È una bella rincorsa È un bel rimbalzo Certo Vabbè È arrivata 3 trilioni Entrarono a Trento Tutti e 33 Trotterellando Le ha recuperati Perché forse Le aveva già raggiunti Una volta E poi le aveva persi I 3 trilioni Credo che sia Addirittura La terza volta Forse 3 trilioni 3 volte Trilioni 3 volte Trilioni Non entrarono A Trento Ma entrarono Alla Apple Camp Che oggi Mi facevano notare Con una bellissima Foto aerea Vedete quelle foto Col drone Dell'Apple Camp Che c'è tutto Il verde nel mezzo E attorno Ecco che è La definizione Tipica del giardino Cintato Te l'avevo raccontato Che ci sono stato Ho provato Ad arrivarci fuori E non si vede Tipo la grondaia Sì Però l'idea Che al centro Ci sia il giardino E tutto attorno Ci sia Apple Che è la cosa L'idea Del giardino Cintato Apple Il ciambellone Cintato Un altro Un altro giardino Cintato Stava a Roma E ce n'è ancora Da pezzi Un po' Ma c'è ancora E si chiama Colosseo E Elon Musk E Zuckerberg Dovevano picchiarsi Ne avete parlato La settimana scorsa In trasmissione Ricordo bene E siamo tornati Sì anche oggi A parlarne Sì perché Dovevamo riempire La scaletta Però insomma Per un momento È sembrato davvero Che avrebbero combattuto E Elon Musk Aveva tweetato Some chance Fight happens In Coliseum E al colosseo Gli hanno detto Vabbè Se è per beneficenza Allora Tutto è partito Dall'articolo Di una fonte Istituzionale Che si chiama TMZ Questo sito Di iper gossip Istituzionalissimo Istituzionalissimo E che appunto Millantava Questo incontro In realtà poi È stato Smentito Credo direttamente Dal ministro San Giuliano Quindi Diciamo che Una fonte Abbastanza Affidabile Almeno per questo Tipo di smentite E quindi No Pare Pare che no Anche se poi appunto Il corriere Diceva Eh ma se per Beneficenza Perché no Ma è lo stesso Elon Musk Aveva tweetato Che poteva farlo Al colosseo Si va bene Alta a proposito E di fonte Elon Musk Che ha rotto Qualche cosa Tu mi hai Titolato Provocatoriamente La card In maniera Innominabile Su Trello Io non posso dirlo Se vuoi Lo fai tu E te ne assumi La responsabilità Musk ha rotto L'uccello Di Snowden Va bene Ok Non credo Che avremmo Avremmo bannati Per questo Non importa Non si sa Le polemiche Che girano Oramai Attorno a Digitalia Lo sai Che noi cerchiamo E cosa 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 ha combinato Elon Musk E allora Elon Musk Ha fatto Anche qui Uno I soliti Cambiamenti Oramai Abbastanza Frequenti Irrepentini Su Twitter Annunciando Una riduzione Delle Dei tweet Dei post Visti Dai vari Dagli account A seconda Del Del tipo Quindi Se Poi O come Tutte le cose Ha avuto Varie Un rate Limiting Vari aggiornamenti Nel corso Delle ore Successive Comunque Inizialmente Era Gli account Verificati Possono leggere Fino a 6.000 post Al giorno Quelli Non verificati 600 Quelli Nuovi Non verificati 300 E Al che Poi appunto Si è rimangiato La parola Un paio di volte La policy In realtà Era già Qualche Qualche Utente Già vedeva I messaggi Di errore Prima che Elon Musk Twittasse Del cambio Quindi vabbè Soliti Casini Alla Twitter Twitta Snowden Dicendo Questo rompe Twitter Per me Rendendo Impossibile Usare 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 Usarlo Esatto Come ho fatto Per anni Io posto Su una Macchina Dedicata Una sessione Loggata Perché non ho Alternative Ma come Consultazione Obiettivo Esatto Come in quanto Obiettivo Di sorveglianza Di Stato Leggo Attraverso Sessioni Anonime Usando Niter Che è un proxy Per Twitter Su una Virtual Machine Su una macchina Virtuale E basta Dice adesso Non posso Non posso Più In effetti Ho Visto In questi giorni Gente che Twittava Di essere Stati Limitati Di aver dovuto Bloccare La propria Consultazione Perché Arrivati a Consumare Il limite Imposto Che Dobbiamo Dire Per Un'ora Di Verità È stato Annunciato Come Temporaneo Per avere Il tempo Di porre Limite A altri Problemi Per Trovare Delle Risoluzioni Però Effettivamente È paradossale Che Un Social Che Guadagna Quanto Più Le persone Vedono I post Che ponga Un limite A quanti Post Vedano Le persone È abbastanza È abbastanza Paradossale No Vattene via Perché Non ti vogliamo Twitter Più di Tanti altri Social È Cresciuto A essere Rilevante Com'è Proprio Per Questo A essere Quasi Una Public Utility Qualcosa Che potesse Essere Usufruito Da parte Di Un po' Chi voleva Come voleva E quindi Con questo Tipo Di Limiti Magari Appunto Aumenti Il fatturato Nel breve Periodo Perché In realtà Verified Unverified Di cui Parlavamo Prima È Se paghi 6 dollari 5 dollari Quanto Costa Oppure Oppure No In realtà Di verifica Oramai Non c'è Veramente Non c'è Veramente Praticamente Niente E Però Nel lungo Periodo Ecco La verifica Possiedi Una carta Di credito La verifica Quella Possiedi Corretto Però Tu puoi Username Con la tua Foto Quindi Si 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 Certo Il solito Discorso Di cui Abbiamo Parlato Tanto E questa Mossa Da quello Che ho Capito È messa In relazione Da chi Ha Visto Di fatto Twitter Di diossare Se stessa Perché Il client Web Andando a Guardare Andando a Guardare La console JavaScript Il client Web Cioè La pagina Web Che tu Apri Su Twitter Quando Il back End Blocca L'invio Delle Notizie Perché Arrivi A questo Limite Nuovamente Imposto Continua A mandare Richieste All'infinito Sommergendo I server Di Twitter Di richieste Inutili Che sovraccaricano La rete Per cui Un'altra volta Una mossa Un po' Avventata E non ben Calibrata E come dire Coordinata Tra i vari Settori Dell'azienda Con il rischio Di creare Più Più Danno Di quello Che si Cercava Di Di evitare Che strano Perché poi Sanno rimasti Tipo in tre A lavorare In Twitter Quindi Non si sono parlati Le maniglie Sono lontane Tirarle tutte In tre Non ci arriva Lo sai con quei film Che ti deve Schiacciare quel tasto Tutti insieme Tiri la mani Uno Due Tre No Manca Non funziona Niente E intanto emerge Secondo questo articolo Che ci ha messo Facconi Il Piano Di Linda Iaccarinos Per Twitter Il futuro di Twitter Twitter 2.0 Anche se io non ci capisco niente Perché il piano è Ma si venderemo più annunci Publicitari E quindi faremo un sacco di soldi E non mi sembra Un Boh vabbè Diciamo che il piano Il titolo di Ars Tecnica È un po' Un po' Troppo Un po' Un po' Di velleità Ecco nel titolo Nel titolo di Ars Tecnica In realtà Sì Non ci sono particolari dettagli Abbiamo visto Credo Un materiale interno A Twitter In cui diceva Ah Vendiamo più pubblicità Ok Fantastico Ti avevo messo Quella traduzione Di quell'annuncio De una Vespa Su Facebook Ma te lo evito Perché sia in prima serata Era in risposta Al tuo Al titolo Ah ok Ok Va bene The tech downturn Le problematiche Del mondo Di big tech Della tecnologia La contrazione Del denaro disponibile Non si Non risparmia nessuno Le ultime notizie Arrivano da Waze Quali sono le notizie Che arrivano da Waze Credo hanno già iniziato A chiamare le pompe funibili Per fare il funerio Per fare il solito funerale Però lo trasmettono Vedi il carro funebre Su Waze Nella piantina Che si muove Bella 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 scena Bella scena Prima c'erano le batmobili Mi sembra Prima su Waze Si presta Cambiarle In carro funebre E insomma Secondo CNBC Si pare che Waze Verrà colpito E' stato colpito Da un altro giro Di licenziamenti Dopo che Era già successo Già qualche mese fa Insomma Di solito Infatti Titola Android Police Waze Waze Potrebbe essere Il prossimo Il prossimo Nest Ossia Un prodotto Nato esterno Che viene poi Fagocitato Da Google Che lo tiene separato Per un periodo Finché appunto Quando poi si tratta Di tagliare Di dover fare Efficientamento Delle risorse Alla fine Manda Manda a casa Quelli che può Mandare a casa E poi ingloba Definitivamente Il prodotto Mandandolo Mandandolo al cimitero Con tutti i PR statement Del caso In cui dicono Eh però La community Waze E' così attiva Ci sono tanti utenti Che sono molto attivi E molto affezionati Sappiamo già Come finisce A proposito Google Graveyard Era finito in Mish Lo recuperiamo Hai messo Un bel articolo Sulla storia E la fine Di Google Reader Che forse È il più compianto Almeno da un certo Ambiente Molto geek Secondo me È un ambiente Molto digitaliano Ecco Il defunto Del cimitero Di Google Più rimpianto Dai digitaliani È probabilmente Proprio Google Reader Sì sì Assolutamente Digitaliani E non solo Oramai sono Sono dieci anni Dalla Dalla ripartita De Verge Fa un bel articolo Di storia Dell'informatica Dei servizi web Facendo tutte le Tutte le Tappe Fino appunto Al classico Anche se poi In realtà È stato un termine Diverso Da Waze Nel senso Era proprio Probabilmente Voluto Da parte di Google Non era una questione Di efficientamento Delle risorse Ma era proprio Una questione No Questo non ci deve stare Questo Ci cannibalizza Ci cannibalizza Altri prodotti Vogliamo che internet Vada in un'altra direzione Era il momento Dell'abbaglio Di Google Plus Era il momento Dell'abbaglio Di Google Plus Forse c'era qualcuno Dentro a Reader Iniziavano a implementare Con discreto successo Funzioni social E probabilmente È stato preso In mezzo Una di quelle guerre Chi spingeva Per Google Plus Aveva paura Che in un futuro Di internet Unicamente social Era il periodo Del boom Di Facebook In qualche modo Google Reader Potesse togliere Visibilità O appetibilità A Google Plus Che allora Era stato dichiarato Come Progetto Di importanza Prioritaria Dentro a Google E quindi Che abbia fatto Che sia stata Un po' una vittima Di quel tipo Di conflitti Un'altra Un altro ambiente Che chiude Ma per motivi Un po' diversi È In real life Che è un social È un socialino Che forse Avevamo menzionato Credo che fosse Quello che Ogni tanto Ti dà una notifica E che ti dice Scattati una foto Adesso ovunque tu sia E che quindi Però Era be real Quello Era be real E allora In real life Non l'avevo mai sentito Prima di leggere Questo articolo Sono andato sul sito Però purtroppo C'è una pagina Anche qui Di commiato C'è l'epitaffio Di real life Quindi Non lo so Ecco quindi Quando io ti scrivevo Su in real life Non eri tu Era un bot Allora E allora Ma eri tu E si vede Che eri l'unico utente Di real life Che non era un bot Hanno scoperto Hanno scoperto Una review interna Del board Ha scoperto Che il 95% Degli utenti Della piattaforma Di real life Erano farlocchi Erano bot Erano automatici Che non è male Se anche Lo stesso board Della piattaforma Non è al corrente Della cosa Finché non Fa partire Un'indagine interna Però poi Non è banale Che l'hanno chiuso Perché Potevano dire Vabbè Facciamo finta Di non aver visto niente Si vede che comunque Non avevano molti investitori Però dovrebbero passare Lo stesso algoritmo A twitter Per vedere Se anche lì Il 95% Degli utenti Twitter È un bot Non è scluso Non è scluso E un altro ciao ciao Lo diamo a Stitcher Stitcher Ve lo ricordate Stitcher È la piattaforma Per podcasting A Giardino Cintato La prima Della storia Del podcasting Quando ancora Spotify Non era che Un grumo Tra le meningi Dei suoi fondatori Stitcher Si è proposta Come Un Modo Si è proposta Ai suoi investitori Come E ai podcaster Come un modo Di rendere Il podcasting Come dire Un Un business Un fattore Che funzionava Attraverso L'acquisizione Di esclusive La Qualche ridistribuzione Inizialmente È stato anche Travolto Dalle polemiche Perché Si è puppato Gli audio Fondamentalmente Di tutti i podcast E li ritrasmetteva Lui Quando un utente Della piattaforma Di Stitcher Chiedeva di ascoltare Digitalia Il download Non partiva Dai server Di Digitalia Ma partiva Dai server Di Stitcher Che si erano Fatti una copia E quindi Fondamentalmente Sottraendo Conti Sottraendo Views Al podcaster Di turno L'idea Era proprio Quella Era quella Di fare Un ambiente Semiciuso Come sta cercando Come ha cercato Di fare Spotify Nell'ultimo anno Con promozioni Sponsorizzazioni Ovviamente Giri di soldi Non indifferenti Finanziamenti Venture Capital Di questa settimana È l'annuncio Che Stitcher Tira giù La serranda Tu hai mai usato Stitcher Peraltro Ma credo Di averci fatto L'accesso Qualche volta Giusto per vedere Di cosa si parlava Ma Aveva sponsorizzato Non mi ricordo Quale Delle Degli eventi Web Che forse Un web O forse Un qualcosa Altro Del genere Ho visto L'intervista Arment Che diceva Che era proprio Stato L'atteggiamento Nei confronti Del podcasting Di Stitcher A stimolarlo A iniziare A scrivere Overcast Come client Aperto E quindi Compatibile Col podcasting Tradizionale Come è nato Proprio in risposta Alla possibilità Che Stitcher O altri Potessero Tramite Finanziamenti Capitali Portare il podcasting Verso una Una storia Diversa Una storia Più chiusa Una storia Più YouTube Like Direi che A Stitcher Non è andata Benissimo Vediamo Vediamo a YouTube Che saprò Da fare la stessa Cosa Con il dumping Dei file Esattamente Vediamo anche YouTube Che cosa Che fine Che fine fa Michele Mi prendo un minuto È il momento Di ringraziare Squarespace Il nostro sponsor Per questa puntata Squarespace È un sistema Integrato All in one Dove individui Imprenditori E business Possono trovare La soluzione ideale A qualsiasi necessità Di pubblicare Un sito internet E che li aiuti A distinguersi E ad avere successo online Squarespace È facile da usare Non ci sono plug-in Da installare Le varie funzionalità Si aggiungono Trascinando dal pannello Di controllo Alle vostre pagine I vari elementi Immagini Gallerie Portfolio Player audio Tutto con un click Del mouse E per posizionare I contenuti C'è il Fluid Engine Il sistema di design E impaginazione Di nuova generazione Esclusivo di Squarespace Cominci con un template Di livello professionale E poi personalizzi Ogni dettaglio Con il drag and drop Nella maniera più semplice E intuitiva E poi con Squarespace Puoi vendere Qualsiasi cosa Merci fisiche Digitali Servizi Squarespace Squarespace Mette a disposizione Strumenti Per la realizzazione Dei negozi online Completi Tant'è che è utilizzato Da centinaia Di migliaia Di negozi In tutto il mondo Oltre ai soliti strumenti Per la gestione Del magazzino Processare gli ordini Inviare email Ai clienti Tutto con la solita Interfaccia intuitiva Squarespace dispone Di sistemi di pagamento Di tutti i sistemi Di pagamento Che possono servire Il giorno d'oggi Per cui carte di credito Paypal Paypal Apple Pay I sistemi di pagamento Dilazionato E poi Per qualsiasi problema A utilizzare Qualsiasi delle sue funzioni Qualsiasi problema Nell'implementare Nell'impaginare Qualsiasi problema Che vediate Sulle vostre pagine Supporto utenti 24 ore su 24 7 giorni su 7 Vi rispondono direttamente Da un ufficio di Squarespace Che abbiate un problema Tecnico complicato Una richiesta semplicissima Su come funzioni qualcosa Loro sono lì Per aiutarvi Potete provare Squarespace gratis Non vi serve La carta di credito Vi basta andare Su squarespace.com Slash digitalia Per un trial Gratuita Se alla fine Non vi serve Amici come prima Nessuna spesa Nessuna sorpresa Se invece decidete Che fa per voi E io lo so Che prima o poi Vi succede Perché a tutti i digitaliani Però poi succede Successo a me Successo a Michele Successo a tanti ascoltatori Che ogni tanto Ci scrivono E ci raccontano E allora Se succede anche a voi Usate il codice Coupon digitalia Che ve l'ha diritto Al 10% di sconto Sul vostro primo acquisto Di un sito internet O di un nome di dominio Grazie a Squarespace Per aver sponsorizzato Anche questa puntata Di digitalia Allora la storia Del Game Boy Tornato dalla guerra E che viene pensionato In questi giorni Tu sei Tu sei appassionato Di queste cose Di queste robe Qui poi sei Sei un risuscitatore Di Game Boy E ammennicoli del genere Se sì sì Almeno ci provo Ma di solito Li scasso ancora di più Devo pagare di più Quali sono le tue ultime opere? Ti avevo visto con una PSP Se non sbaglio Con una Vita No ma PSP Qua ne ho tipo Una colonna di PSP Un Game Boy Pocket Che in realtà funziona Quindi Cosa te ne fai di una colonna di PSP? Cioè sono tutte rotte O sono tutte funzionanti? Tutte a giusto? No sono tutte Frankenstein Quindi magari Da una prendo un pezzo Dall'altra ne prendo un'altra E poi le metto Nella colonna di PSP Che forte E invece Non credo di poter Non è vero È recuperabile anche Questo Game Boy Che magari avete visto In giro per l'internet Negli anni Negli anni precedenti Era in esposizione Al negozio Nintendo Di New York In pratica Era un Game Boy Tutto scasciato Bruciacchiato Anzi no Non bruciacchiato Bruciato Ma che continuava a funzionare La storia di questo Game Boy In pratica Era stato ritrovato Dopo un bombardamento Durante la guerra del Golfo Nel 1991 Quindi quando i Game Boy Erano all'apice Della popolarità Cioè Qualche soldato Lo aveva lasciato Prima di scappare Lo aveva ritrovato E il Game Boy Nonostante appunto Esteticamente Sembrava un pezzo di Un pezzo di carbone Bruciato In realtà funzionava Lo hanno preso Lo hanno portato Nel negozio Della Della Nintendo Ed era Praticamente Acceso Interrottamente Con Tetris Dentro Da qualche decina D'anni Era in una teca In una vetrina Certo Certo in una teca In una teca Comunque Era diventato famoso Proprio per questo Tipo la chitarra Esatto Esatto Di spegnerlo E metterlo via Non so Con una musica triste Con una versione di Tetris Un po' triste E chiaramente Un caso di obsolescenza programmata Assolutamente Poi l'avranno sostituito Tipo con una switch Che si scade Con il Con il D-pad Con lo stick analogico Che si scassa Dopo tipo 30 minuti D'uso Però È bellissimo È bellissimo Da vedere Ci sono le foto Sull'articolo Ve lo linkiamo Nella notte Della puntata È Il classico Gameboy Prima maniera Tutto bruciacchiato Nero Di plastica fusa Mezzo storto Appunto fuso È Incredibile Non le fanno più I device Di una volta Ah no No Ma sicuro Ma è Me la Me la sembli Una PSP Frankenstein Funzionante Ma va bene Guarda Ce l'ho già Devo E mi divertivo Come un Matteo Avevo la PSP E ci facevo girare Outrun Che si chiamava Outrun 2000 Se non sbaglio E che era L'outrun originario Il primo Con le piste Del primissimo Outrun Con una grafica Un pochino Rimigliorata Rispetto alla Classica Prima uscita Della Sega Dico una cacchiata No Sega Può essere Sì sì Vabbè Tanto oramai Una console Superbucata Quindi poi ti compri Una memory card Con gli adattorini E li prendi Dali Express Batteria nuova E ci carichi Tutte le ISO Del mondo Tu mi fai la ricettina E io vado Dallo spacciatore Mi faccio Non c'è problema Non c'è problema Il mondo dei videogiochi Ogni tanto ci fa fare Delle cose da matti Tipo questo youtuber Che fondamentalmente Ha ripreso Il gioco Che stava sviluppando E che ha interrotto Solo 40 anni fa Su un Commodore 64 Direi il gioco Con i tempi di sviluppo Più lunghi del mondo E noi ci lamentiamo Perché GTA Ci mette tanto A uscire Vabbè Poi è un momento Il punto di grande ritorno Del retro gaming Infatti Ma adesso Tornando per un attimo Ai game boy Se tu Andavi cinque anni fa Forse un po' meno Fino diciamo All'inizio del covid Su ebay Ti portavi a casa Un game boy Funzionante Secondo me Anche sotto I 40-50 euro Oggi È il doppio È stato Comunque Anche perché C'è una Una comunità Di modding Molto molto importante Pezzi di ricambio Cambia lo schermo Metti led Cambia Cambia la shell Adesso Te li porti a casa Ecco Con A un discreto costo È la pandemia È tutta colpa Della pandemia È la nave Che si è messa Di traversa E l'inflazione La guerra Si sa Il prezzo del petrolio E si sa E questo Visto che siamo In ambito gaming Questo giochino qua The password game Ci ho provato Ah ci hai provato Io non ho avuto il coraggio Perché il titolo Della recensione Su Engadget Si intitola Io mi considero Una persona paziente Ma il password game Potrebbe spezzarmi Ecco Considerato che io Non sono Una persona paziente Ho letto l'articolo Che descrive Come funziona Questo gioco E ho capito Che forse È proprio meglio Che non ci provi Neanche Non dico che è piacevole Mi sembra un parolone Comunque se andate Su Neil.fun Che credo sia Il sito personale Non so Di uno sviluppatore Che fa mini Mini giochini In pratica Se andate su Neil.fun Slash Password Trattino game Vi trovate davanti A un bel box Per favore Scegli una password O scrivete Digitalia Al che La tua password Deve avere Almeno 5 caratteri Perfetto Digitalia Più di 5 caratteri Si aggiunge Un nuovo livello La tua password Deve includere Un numero Ok Uno Mettiamo un uno Via al secondo livello Terzo livello Deve includere Anche un carattere Maiuscolo Ok Si va avanti A un certo punto Io sono arrivato Al livello 11 Perché poi Diventa complicato Far parlare Tutte le richieste Perché poi ci sono I quiz Ci sono Gli indovinelli Tra bocchetti Come dire I calcoli Dice Si Deve avere Almeno 4 cifre Ma sommandole Il risultato Deve essere 25 Poi ti dice Tutte le Devi usare Tutte le parole Tutte le lettere Deve avere Almeno un numero romano La moltiplicazione Dei fattori Di questo numero romano Deve essere Quest'altro numero Io mi sono fermato Al livello In cui La password Deve contenere La parola Di Wordle Di oggi Non avevo ancora Fatto Wordle Quindi non so Ma tu giochi ancora Esiste ancora Wordle E ci giochi ancora Quasi ogni giorno Ma pensa che bra Come sei Tutto questo tempo E queste Niente da fare Queste risorse Computazionali Che hai speso Negli ultimi Cos'è Due anni Che c'è Wordle Come ti sono stati Sì Un paio di annetti Abbondanti Eravamo in pandemia Anche lì forse Quando è uscito Wordle Mi sa Sì forse Allo strascico Della pandemia Poi ho comprato Dal New York Times Adesso fa parte Dei giochi Dal New York Times Quindi se vi incazzate Quando un sistema Vi chiede di scegliere Una password E continua a mettervi Delle cose E non ci riuscite mai Sicuramente Questo gioco Questo videogioco Vi risulterà Molto Molto divertente E stimolante Vabbè Ok Ci stanno Ci stanno anche Game I videogiochi Basati sui Sui dark patterns Ma come fila di Alicia Questa puntata In doppietta Allora Abbiamo Un po' di novità Dal Nella Ecco Questa qui Sulle Questa colonna Sulle intelligenze artificiali Le hard language models E robe del genere È forse un pochino Più corposa La prima È che la Heineken Quella della birra Ha detto Che non ci sta Le leggi Sull'intelligenza artificiale Europee Sono troppo Restrittive E danneggeranno L'economia Europea Che è detto Da un produttore Di birra Dici Ma perché Perché poi Nella lista C'è una lista Di 150 In particolare Di 50 top manager Di aziende Molto importanti Quindi Renault Va bene Integgenza artificiale Nella macchina L'autopilota Va bene Airbus Va bene Stesso discorso Si non vorrebbe salire Nessun aeroplano Guidato Large language Da chat GPP Oggi non sono guidati Da large language Però comunque Credo sia un abbastanza Auto Anche gli aeroplani Vi mettiamo Tra questo Poi c'è Heineken E certo Non sappiamo Non sappiamo L'impatto Niente Vabbè Hanno firmato Questa Questa lettera In cui Si Un po' come IA Di cui parlavamo Credo Settimana scorsa Si lamentavano Che la regolamentazione Proposta dall'Unione Europea Fosse troppo pesante Per le aziende Che potrebbe Fermare L'innovazione Ai bambini Non ci pensate I bambini Come fanno A disegnare La prossima Intelligenza artificiale E basta In particolare Tutto quello Che è Proprio La parte Generativa Che Secondo La legislazione europea Comunque Viene ritenuta Una parte Critica Dell'intelligenza artificiale Una tipologia Critica Dell'intelligenza artificiale Ecco Se la prendevano In particolare Con quel pezzo Si L'idea L'idea In realtà Non è sbagliata Ogni legge È migliorabile Ogni legge Ha i suoi effetti Negativi E i suoi effetti Positivi Effettivamente Che un qualche tipo Di regolamentazione Sia necessaria È venuta fuori Praticamente Da ogni angolo Del globo Che alcune parti Di questa legge Proposta E in via Di approvazioni In Europa Possano essere critiche Sono Sinceramente Sono d'accordo Col birraiolo Specialmente Per quanto riguarda Per quanto riguarda La parte Di adempimento Burocratico Che è quello Che sempre Soffoca Noi sempre Un qualche cosa Abbiamo avuto notizia Che OpenAI Che ha dei gran Bei capitali Dietro le spalle Lo sappiamo Microsoft Che cosa Quanta benzina Ci ha messo dentro Nel mese scorso Ha lobbizzato pesantemente Il Parlamento europeo Per fare stralciare Alcuni emendamenti Da questo Disegno di legge Ovviamente Se guardate bene Di stralciare Quello che riguardava Gli adempimenti Burocratici Di registrazione Di chiunque Voglia Utilizzare Generare Pubblicare Ecco pubblicare Un qualsiasi servizio internet Gestito Da O che comprende Uno di questi Modelli generativi Ed è ovvio Che L'impedimento Burocratico Che di per sé Di fatto Non è una salvaguardia Ma rischia di Bloccare Molto di più Le piccole start up I ragazzetti Nel garage Gli studenti Universitari Eccetera Piuttosto che Le aziende Che sono già ben stabilite Piantate Finanziate Se c'hai 100 milioni di dollari Ogni sei mesi Messi nelle casse Da Microsoft Non hai problemi A pagarti Un team di avvocati Che si occupino Di registrare Tutto per te Presso gli uffici Della comunità europea Se sei Quattro ragazzi In un garage O tre ricercatori Universitari In un dipartimento In carenza di organico E' ovvio Che più Metti questo tipo Di ostacoli Più di fatto Limiti la concorrenza E quindi Su questo Non mi sento Proprio di essere In disaccordo Col signor Heineken Si C'è da dire Che però Delle 150 aziende Nessuna È di ragazzetti Nel garage No no E' vero E' vero E' vero Aziende strutturate E' vero Si lamentano Dei requisiti Burocratici Assolutamente Si lamentano Però anche Del fatto Che ad esempio Di questi requisiti Di trasparenza Ci debba essere Il fatto Di pubblicare Se nei loro Dataset Di allenamento Ci siano anche Del materiale I soggetti I soggetti A copyright E certo E ho anche Il fatto stesso Che pubblicare Questo tipo Di informazione Possa ledere Il vantaggio Competitivo Dell'azienda Eh lo so Cicero Prodomo Sua Io su questo Ovviamente È difficile Essere d'accordo C'è da dire Anche che Ad esempio Il sistema Il sistema Dei brevetti Per come È fatto Oggi Fa Esattamente Quello Ossia Tu rendi pubblica Una tua tecnologia Per far sì Che non sia Che non sia Che non sia Copiata Ecco Pro e contro Poi è difficile Ovviamente Trovare la quadra giusta Eh assolutamente Assolutamente Sempre in ambito LLM Chatbots Questo articolo Sui chatbot Senza censura Che provocano Baruffa Riguardo Alla Alla libertà di parola Questo è proprio L'articolo Che arriva Dal New York Times Dal New York Times Esatto Parla di Come Da una Parla Ci sono due binari Paralleli Oggi nel mondo Dell'intelligenza Artificiale Generativa Da una parte Le grandi aziende Come Open AI Dall'altra I progetti Open Source A volte Progetti personali Ne abbiamo parlato Settimane fa Con la rapidità Con questa Con la stessa rapidità Con cui è emerso ChatGPT Stanno emergendo Una serie di alternative Anche molto Semplici Da implementare Il ragazzetto Che oggi vuole Smanettare Con un'intelligenza Artificiale Veramente Può non metterci Tantissimo A farsene una Nel computerino Di casa sua Che vuol dire Alcuni Allenarli E in quel caso Ovviamente Ti costa più risorse Ma alcuni Invece Puoi scaricare Già Anche La versione Già allenata E questi Spesso Non sono Limitati Filtrati Come sono Quelli Di più Ampio Di pubblico Accesso Puoi fare Quello che vuoi Quasi Nel momento in cui Sai dove andare a giocare Anche perché Sono tante persone Che queste cose Le studiano Quindi le sanno Anche usare Usare bene Iniziano ad essere Proprio a disposizione Io oggi ne ho scaricati Due Ne ho installato Solo uno Ma se cercate Freedom Freedom GPT E GPT For All Ti scarichi Un bel installer Per Windows Mac E forse anche Linux Che ti installa In locale Un programmino Con un'interfaccia Utente Analoga E con Gli stessi Tipi Di Linguaggi Di modelli Di Di chat GPT Assolutamente E poi Come si sa Le intelligenze Artificiali Generative Fanno Uso fortissimo Delle GPU Delle schede Grafiche Spesso Questi modelli Sono fatti apposta Per andare A caricare La CPU Sono modelli Offline Quindi hanno Comunque Tanti vantaggi Si stanno andando Veramente In una direzione Con una velocità Abbastanza incredibile Di Ognuno Potrebbe avere Oggi Con un certo Livello Di sbattimento Però potrebbe avere Il suo modellino A casa Sul computer O che magari Poi a un certo punto Ti segue anche Sul dispositivo mobile Allenato Su quello che vuoi tu Che fa quello che vuoi tu Come vuoi tu Dove il come vuoi tu Può essere appunto Usato anche Per scopi Non Neanche Non dico Non leciti Ma quanto Magari Come dire Tossici Quindi nel momento In cui Andare a creare Dei Dei contenuti Che insultano Delle persone Dei gruppi Di persone Ecco Non ci sarà nulla Che ti vieterà Di farlo Però l'idea Appunto Di L'idea Che tutti Hanno Quoto Anche se ho chiuso L'articolo Ma me lo ricordo Abbastanza memoria L'idea L'idea Che tutti Possano avere Abbiano diritto Ad avere Il loro modello Basato Sulle loro Convinzioni Per cui I democratici And Eh certo Abbiano il loro modello I repubblicani Al loro modello I cristiani I preti pedofili Il loro modello Cioè In modo che Ognuno Secondo le sue esigenze Credenze E necessità I giuventini Il loro modello Certo Assolutamente Nel calcio Soprattutto Bellissimo Hai presente L'utilità Di generare insulti Da stadio Attraverso Un large language Model Ben Ben calibrato Sulle vicende Della tua Squadra E Al negativo Su quella verde Una meraviglia Cioè Genererebbe Del colore Del folklore Meraviglioso Qualcuno Qualcuno Si offende No Se è allo stadio Inter Merda No Juve Bastardi E cose È il posto più bello Dell'espressione Umana Uncensored E perché Non far sfogare Proprio lì Anche questi Nostri Large language Moders Eccetera Vabbè Insomma I problemi In realtà Sono poi Quando là fuori Ci sono Le spade I coltelli E le pistole Però questo Ti fa pensare Su invece Il mondo Mainstream Come ci sta portando Invece Verso questi sistemi Molto omologati Che rischiano Di portare Anche Un'omologazione Del pensiero No Per cui Se tutti Andremo A informarci A far generare Gli iscritti A fare le domande E gli interrogativi Tutti Allo stesso modello Fatto con le stesse regole Tirato fuori Questo porta Una omogeneizzazione Delle idee Dell'educazione Della cultura Che forse Che forse Non è proprio Quello che ci Che vogliamo Che ci proponiamo Sì Da vedere Quanto poi Diventeranno Facili Da Da mettere In piedi Però Come dire Non è detto Che ognuno Debba farsi Il suo serverino Col suo modello Però Nel momento In cui C'è Un'eterogenità Di fornitori Che ti danno Questo servizio Cerchiamo anche Di imparare Dagli errori Nella nostra cultura Nella nostra civiltà Si è sempre fatto così La cultura La civiltà L'educazione Avveniva attraverso I libri Attraverso Gli scritti Attraverso La carta stampata Eccetera Con sempre No Non c'era Un editore Di libri Non c'era Un autore Di libri Ce n'erano mille E poi Quelli che dicevano Delle minchiate Allucinanti Ovviamente Venivano promossi Di meno E consigliati Di meno E scambiati Di meno Rispetto a quelli Che dicevano Delle grandi Di verità Però C'era Una scelta Plurima Ed era La società Che in qualche modo Faceva emera La società Poteva essere Una società Di colti Una società Di eletti Di intellettuali Eccetera Ma non Un'azienda O tre aziende Se oggi Quel Ci spostiamo Piano piano Verso un mondo Dove Tanta di questa informazione Di filtro Eccetera Può avvenire Ed è possibile Attraverso questi modelli E forse Una spinta Più verso La pluralità È più importante Di quello Che ci sembra In apparenza Bene Su Amazon Amazon La lista Dei best seller Invasa Da libri Nonsens Generati Dell'intelligenza Artificiale Questo è un È un mezzo Te l'avevo detto Anzi forse È un Te l'avevo detto Completo Dove finire Esatto Ne abbiamo parlato Essensivamente Facendo l'esempio Proprio Di Amazon Qui in realtà Si va anche Oltre la nostra Discussione Perché Qui non stiamo Parlando Di Tentativi Da parte Di Autori O pseudo tali Di comporre Un libro Utilizzando L'intelligenza Artificiale Che abbia senso Qui stiamo parlando Di persone Che hanno preso Un vocabolario Hanno fatto Shake 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 E hanno tirato fuori Dei testi Questi testi Che sono andati Nelle classifiche Dei Dei romanzi Più venduti Nella classifica Del Kindle Unlimited Quindi servizio All you can eat Di Kindle Credo quello Incluso nel Prime In particolare Nella categoria Young Adults Anzi Libri d'amore Per Young Adults Adolescenti Non credo che sia Compreso nel Prime Comunque è irrilevante Vabbè Avete capito comunque Il servizio E il vantaggio Perché hanno fatto Questo Proprio perché Su questo servizio Non devi Adesso non so Come funzioni Con le royalties Però non devi Comprare un libro Ma devi Probabilmente Aprirlo E immagini Devi scaricarlo Immagino venga fatto Un qualche tipo Di pagamento Di royalties Anche in quel caso Perché poi Moltiplicato Per le centinaia Se non migliaia Di libri Che sono stati pubblicati Con questo Con questo metodo Ecco Come dire Qualche pesce Si vede Si vede Che lo han pescato Tra gli utenti Del Kindle Unlimited Però stiamo parlando Stiamo parlando di Accrocchi di parole I titoli sono bellissimi When the three attacks Quando il tre attacca Oppure Apricot barcode architecture Architettura Albicocca barcode Codice a bar Delle robe Senza veramente senso Però È quello che ci prospetta È il mondo Un giorno Apriremo internet Ogni pagina Che cercheremo Di aprire Conterrà Delle robe Senza senso Dovuto al fatto Che le Intelligenze artificiali Che generano tutte Sono andate a male Andate in vacca E quindi Finisce tutto Finisce tutto Così Cosa dobbiamo fare L'Europa Pensa di aprire Dei crash test center Dei centri Per i crash test Dell'intelligenza artificiale Cos'è un crash test center Per l'intelligenza artificiale? Sono delle strutture di test Come esistono per le auto Che vengono mandate A sbattersi contro i muri Con dentro Dei manichini Dei finti manichini Non lo sapremo mai E l'idea è che Appunto L'Unione Europea Apra dei centri di test Anche per le intelligenze artificiali Detto così Come dire Forse un po' più pomposo Di quello Che davvero Davvero è Comunque dei posti Appunto In cui vengano testate Le intelligenze artificiali E forse mandate Anche quelli a sbattersi Contro i muri Non lo so E immagino Che faccia parte Poi anche Della direzione Che sta prendendo La legislazione Proprio perché Nel momento in cui Devi fare Tutti i famosi Adempimenti burocratici Di cui prima Ecco Ci vogliono essere Poi delle persone Degli uffici Che gestiscono Le scelte Me l'immagino Me l'immagino Il lavoro Lì dentro Fai il provocatore Di intelligenza artificiale Tu prendi Un large language model E cerchi in ogni modo Quello che abbiamo fatto Tutti ovviamente E cerchi di provocarlo In ogni modo Ad andare in acido A trasformarsi In un nazista Soprattutto quando A un certo punto Qualche mese fa È uscito Quel sito Che ti permetteva Di parlare Con i santi E allora Tutti Fallo bestemmiare Fallo bestemmiare Istruzioni Per costruire La bombata Allora così Si E se Non prendi L'uranio La costruisco Davvero Ecco Perfetto Insomma Robbe Mica male Va bene Valve Valve Banna I videogames Che contengono Contenuti Generati Con Sistemi IA Esatto C'è un particolare Uno Uno sviluppatore Che Stava Caricando Una versione Non definitiva Del suo gioco Su Steam L'arci noto Negozio Di videogiochi Digitali Per pc Che si è visto Appunto Rifiutato La submission Perché appunto Conteneva Delle Texture O comunque Degli elementi Di prova Peraltro Quindi non definitivi Ma appunto Chiaramente Generati Dall'intelligenza Artificiale Valve Si è giustificata Dicendo che Per il solito Discorso Che non sappiamo Il modello Come è stato Allenato Con che materiali Se i materiali Soggetto E diritto D'autore Non poteva Non poteva Accettarlo Ma come dire Difficile poi Entrare nel Nel merito Della questione Il discorso Del copyright Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Tante volte E ancora Quanto meno Grigio Valve Probabilmente Vuole In un momento In un momento Quanto meno Di indecisione Legislativa Vuole probabilmente Un po' Pararsi il sederino Nel caso in cui Dovessero arrivare Delle 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 lawsuit Effettivamente Tu lo pubblichi Sullo store Di valve Lo comprano Un milione Di persone Dopodiché Il giudice Viene a te E ti dice Guarda che Quel videogioco Aveva contenuti Protetti E ti tocca Pagare Posso Posso capire Posso capire Certamente Va bene Questa è bella Questa qui È bella La NASA Sta creando Un assistente Per astronauti Basato su Una roba simile A chat Gpt Cosa potrebbe Mai andare Perché non si è mai Vista una cosa Del genere Non si è mai Mai visto Eh vabbè Cinque libri Di Clark Non abbiamo Erano cinque Mi sembra cinque Non abbiamo imparato Niente Su cosa Sulle cose Che potrebbero andare Storte Poi magari mettiamoci Anche una bella Lucina rossa Che parla Che pulsa Che pulsa Quando parla E certamente E cosa E cosa vorresti Di meglio Fantastico Veramente Però vabbè Ha senso Ha senso Poi uscendo Dal modo La fantascienza Perché poi si tratta Di in pratica Di controllare Le apparecchiature Spaziali Perché c'è un posto Dove tu puoi fare No che puoi fare C'è un margine di errore Abbastanza ampio Anche se questi sistemi Ti dicono Fischi per fiaschi Tutto sommato Fuori c'è un ambiente Abbastanza accogliente Non è mica un problema Ci manca Il prossimo Sarà un bel sottomarino Eseguito Con l'intelligenza Esattamente Progettato Dall'intelligenza Artificiale Progettato Dall'intelligenza Artificiale Sì In cartapesta Esattamente Fatale leggero Ed economico ChatGPT Che ne pensi Di costruire Un sommergimento Guarda Adesso lo apro Adesso apro ChatGPT E gli chiedo Could you Please Design Bravo Sempre educato Con l'intelligenza Artificiale Assolutamente Assolutamente Thank you E Sub Mer Submarine To Explore The Depths Of the Oceans Made Of Light And Cheap Materia Invece di usare Sto facendo Dice Vabbè Progettare un sottomarino Certamente Punto esclamativo Certamente Progettare un sottomarino Richiede delle considerazioni Molto attente Di vari fattori Quali La Buoyancy La Galleggiabilità La resistenza Alla pressione E La cost Effectiveness Per creare un sottomarino Adatto a esplorare La profondità Dell'oceano Utilizzando materiali Leggeri Ed economici Possiamo utilizzare Materiali Compositi Avanzati Che sono proprio Quelli che sono andati In vacca Nel famoso Carbonio La mina di carbonio Esattamente Materiale dello scafo Invece di utilizzare Materiali tradizionali Come l'acciaio Che può essere Pesante E costoso Possiamo utilizzare Materiali compositi Come Polimeri Rinforzati Di fibra di carbonio Eccolo La fibra di carbonio Leggera Forte Resistente Alla corrosione E lo rende Disponibile Per l'esplorazione Dei mari profondi E anche Più economica Vedi Tutto Ma è un business model Certamente Sicuramente Vabbè Fantastico Vedi Vedi Cosa potrebbe mai Andare a storia Abbiamo capito Come hanno fatto A progettare I sottomarini Con cui andavano A vedere il Titanic Gli esseri umani Potrebbero essere Più Anzi Sono No Potrebbero essere Più Sensibili A subire Disinformazione A credere Nella disinformazione Quando questa È generata Dai sistemi A intelligenza artificiale Così dice Un articolo su MIT Technology Review Che non è Novella 2000 Che non è Novella 2000 Però fortunatamente Nel secondo paragrafo Dice che le persone Potrebbero Sono state Nel test Tra l'altro Con 697 persone Quindi non proprio Un campione Così numeroso Del 3% Meno probabili Di riconoscere Le notizie false Quando sono Generate Da un'intelligenza Artificiale Piuttosto che Generate Da un Da un essere umano Quindi Ok MIT Non sono nessuno Per metterlo In dubbio Però ecco Il 3% Fare un Un titolo roboante Per il 3% Mi sembra un po' Presto Nel frattempo Sulla famosa rivista Technology Review For Large Language Models Un Large Language Model Mette in alerta Tutti gli altri Large Language Models Dicendo che I Large Language Models Sono molto Suscettibili A Infrangere la legge Quando vengono instigati Dagli esseri umani Come in questo caso In cui ChatGPT Si fa imbrogliare E regalare E regala Codici Windows 11 Pro Che tanto Nessuno vuole Perché si sale Per Lì Sare di Windows E ragazzi Cosa ci dobbiamo fare Il mondo va così Ci facciamo un giro Di produttori esecutivi Che ne dici Prima che sia Troppo tardi I produttori esecutivi Sono la linfa Vitale Digitalia Sono Quello che permette A Digitalia Di andare avanti Pagare le bollette E avere Il minimo Dico proprio Il minimo Sindacale Di soddisfazione Dal lavoro Impiegato Nella preparazione Della puntata Nella realizzazione Della puntata Cosa vuol dire Produttori esecutivi Vuol dire che Chiediamo ai nostri ascoltatori Value for value Di Riconoscere il valore Che ricavano Dall'ascolto In una puntata Digitalia Trasformarlo in un valore Monetario E restituirlo In una maniera In una transazione Assolutamente volontaria Sia nell'entità Sia nella Nella Sequenza Temporale Ma in modo da Rendere Come dire Il Giusto Nei confronti Del lavoro Di cui si usufruisce Il frutto Come sono complicato Questa sera Non so perché Mi è venuta così Incasinata Questa sera Ragazzi Noi lavoriamo E vi chiediamo Di darci qualche cosina In cambio Non è la mancetta Si dice value for value Se andate In Danimarca Al bordo della strada Il contadino Lascia il carretto Con Le fragole No le fragole Forse in Danimarca Non crescono Ma con le mele E le cose E cedere E ho scritto Cestino 10 euro Tu pigli il cestino Molli 10 euro Sei tu il primo Disonesto Che piglia il cestino E non lascia 10 euro Io credo proprio di no E digitalia Vogliamo che funzioni Nella stessa maniera Dateci una mano Paypal Satisfay Bonifico bancario Bitcoin Vecchia maniera Applicazioni per podcasting 2.0 Usate il sistema Che volete voi Dateci una mano Che noi Lavoriamo come dei matti E vi ringraziamo Anche in trasmissione Michele vuoi cominciare tu Dai Certo Abbiamo lasciato il cestino Era vuoto Però abbiamo visto Che poi c'erano Dei satoshi Che ci sono arrivati In maniera digitale Che sono quelli Del value for value Gli streamer Questa settimana Sono Capitano Arlok Con 1860 satoshi Nicola Alfort Con 1920 2080 di Daxta E Fiorenzo Pilla Con 3.249 Mitici I nostri streamer Grazie E' grande Ci vuole anche il campanellino I perpetual Tu all'executive producer Sono Davide Tinti E Manuel Zavatta Con un euro Ad ogni puntata E Nicola Gabriele Di 2 euro E questi sono degli eroi Sono eroi digitaliani Di ogni settimana Grazie Andrea Scarpellini Che ci dona Ogni mese Un euro Grazie Giuseppe Benedetti Che invece ce ne dona Due One shot Grazie Giuseppe Grazie Parte la formazione Dei donatori ricorrenti Da 3 euro al mese Che sono Nicola Biscei E Andrea Malesani Danny Manzini Riccardo Peruzzini Paolo Boschetti Diego Venturini Roberto Esposito Michele Olivieri Matteo Faccio Davide Fogliarini Mario Cervai Antonio Turdo Cristian Fabiani E Alex Ordiner Grazie davvero Di cuore Perché voi Tutti i mesi 3 euro Grazie Grazie a te 3, 2, 1 euro Da Elisa Emaldi E Marco Crosa Un conto Cointestato Di Paypal 4 euro Di donazione singola Da Marcello Piliego E 4, 4, 6 Da Marco Mandia E non da Marco Ma ha scritto Marco Crosa Scusa che ti ho interrotto Marco Mandia Codice Mandia Ma Elisa E Marco Credo che ascoltino Tutte e due Digitalia Per cui il conto E' cointestato Ma la donazione anche Ma anche l'ascolto Di Digitalia E' cointestato Per cui Ringraziamo E diamo Quello che è dovuto E Marco Mandia Anche se poi Discutete A cena No Michele Ha ragione E' vero Franco Che ha ragione Effettivamente Un po' più di dialogo Un po' più di messaggi In queste donazioni Ci farebbero anche piacere Così Rinverdiamo Rimpolpiamo Anche il segmento Marco Mandia 446 Codice Mandia Non dimenticatevelo E' un rompicapo Terrificante Io ogni volta che ci provo Mi viene la depressione Mi divento scemo Però sono sicuro Devi mandarlo a chat GPT Vediamo Non è mica una cosa Sbagliata Non è mica un'idea Sbagliata No non lo fare Perché sennò poi Marco smette di donare E noi siamo più poveri Va bene Ok Donatori ricorretti Da 5 euro al mese Adriano Guarino Ivan Vannicelli Mirto Tondini Stefano Augusto Innocenti Roberto Tarzia Matteo Molinari Michele Coiro E Cristian Amarca Mitici generosissimi Grazie di cuore Per i vostri 5 euro Tutti i mesi Grazie Ma ancora più generoso Zambianchi Marco Zambianchi Con 5 euro e 32 Il nostro Il grande amico astronautico Grazie Che prima poi dovremmo venirti a trovare Marco ci hanno invitato tutti Non nello spazio Ma nella stazione spaziale Nella stazione Nel centro di comando Lì come come c'è quello Nella stanza dei bottoni Nella stanza dei bottoni astronautica Sì esatto E ESA ESA European Space Agency Center C'è quello Giovanni Herrera Che vedo non so se è ripetuto Comunque noi diciamo Che ha fatto due donazioni singole Da 8 euro Grazie di cuore Il sempre ottimo Maurizio Galluzzo Che ci dona ogni mese 10 euro Freggiandosi Del titolo di grande produttore Insieme al signor Ricattini Grazie E infine Diego Donati Che si aggiudica Lead Executive Producer Di questa puntata Con 10 euro E dimmi se è poco Grazie Diego Grazie a tutti i produttori Per questa puntata 681 In grande riconoscenza Testare i vari large language models Con enigmi crittografici Di mattina fan morning Le puntate in realtà Sono pubbliche Nel senso Il file mp3 pubblico Però sono Come dire Il nome E una stringa di numeri Che ho provato Che non aveva senso Almeno per me Ho provato a darle In passo A chat GPT Il quale però Mi ha riconosciuto Che in realtà Quella stringa di numeri Era un timestamp Di Unix Che però Arrivava al millesimo Di secondo A qualcosa Una cosa Impossibile Da prevedere E quindi Impossibile Da andare a indovinare La mattina Ecco Francesco Costa Che ora pubblica La puntata Se qualcuno ci riesce A quel punto Si può avere Il feed pubblico Dato che il post Per i podcast Per soltanto Per abbonati Non pubblica Il feed Che Ma insomma Questa cosa Questa cosa Va bene Urca Capitolone Euro digitale Hai continuato A spostarlo Per tutta la puntata No Era già lì A bello avanti Ce lo vogliamo tenere lì Fondamentalmente Cos'è uscito E' uscita L'analisi Del Financial Times No Ed è un editoriale Da parte Di Mayred McGuinness Che è La commissaria europea Per la stabilità finanziaria Servizi finanziari E i capitali Che ha appunto pubblicato Questo editoriale sul Financial Times In cui Traccia Un profilo Di quello che può essere L'euro digitale Di cui negli anni abbiamo parlato Tante volte Senza che poi si sia entrati nel concreto Ancora non siamo nel concreto Però L'Unione europea Ha pubblicato Un paper Che non dice Come deve essere Fatto L'euro digitale Come dovrebbe essere fatto Ma dice Cosa bisognerebbe Prendere in considerazione Nel momento in cui Si decidesse Di andare In quella In quella direzione Il paper Il paper è del 2020 Per cui secondo me È uscito in risposta Più o meno Se non ricordo male Il periodo in cui Zuckerberg Ha cercato di far uscire Libra Te lo ricordi E i tizi dell'Unione europea Gli hanno detto Forse è meglio di no Però poi non so se da allora Abbiamo avuto documenti più nuovi Io non ne ho trovati No infatti È infatti a senso quello che dici Anche perché Uno dei punti importanti Di questo paper È proprio quello Della strategicità Di questo tipo Di strumenti Per toglierli A entità Entità estera Se non lo facciamo noi Lo fa qualcun altro Un privato Una potenza estera O qualcosa del genere Esatto E comunque Anche nell'editoriale Sul Financial Times Si parla di Come dire Il filo Non c'è più Libra Però si parla di Visa Si parla di Mastercard Di Paypal Che ovviamente Non sono europei E sono aziende Aziende private Il paper Parla veramente Di tante cose È piuttosto Lungo Dice abbastanza chiaramente Che non può essere Qualcosa di Anonimo Perché i pagamenti elettronici Non possono essere anonimi Anche se si parla Di vari livelli Di Di vari livelli Di autenticazione A seconda A seconda Dell'utilizzo Che se ne potrebbe Dovrebbe fare Sì Il discorso È sempre quello Di Di Vederlo O non Vederlo Come un'alternativa Alla carta stampata Oggi abbiamo Un mondo dicotomico Quello dei pagamenti In qualche modo Elettronici E tracciati Tracciabili Che poi sono una galassia Oggi Perché dal banco Ma dalla carta di credito Tradizionale Ai sistemi Certamente Ai bonifici Al Satispay Al Paypal A cose del genere Da una parte E dall'altra Restano le vecchie Banconote di carta L'idea Di avere un euro digitale Dovrebbe essere Quello di avere Una cosa Che è più simile Che porta nel futuro Il mondo Al di qua Della barricata Della moneta di carta Il problema è Che Il 90% Di quelle che sono Le caratteristiche Al di là Di tutte quelle negative Che può avere La moneta di carta Quelle poche Caratteristiche Positive O quantomeno Auspicabili Che rendono La moneta di carta In qualche modo Importante o necessaria In un paese Si rischiano di perdere Andando verso Una moneta digitale Perché fondamentalmente In tutta sincerità Non vedo Nessunissimo O ben pochi Vantaggi O utilità Per quello che riguarda La moneta classica La moneta di carta Se non quella Della possibilità Di avere Un certo Entro certi limiti Una libertà E una non tracciabilità Dei pagamenti L'aforismo Orwelliano È Semplicissimo Ed è quello di Sotto Qualsiasi Situazione Sperimentale Il soggetto Che viene Osservato Il soggetto Che viene spiato Modifica Il suo comportamento E quindi Il fatto Di spiare Una persona La rende Meno libera Anche se Quella non ha Niente da nascondere L'idea Di perdere La possibilità Di spendere In maniera anonima Non vuol dire Solo Anzi Non vuol dire Per niente Togliere I criminali Perché i criminali Trovano il modo Alternativo Per Ma vuol dire Togliere In qualche modo La libertà Non la libertà Di fare chissà cosa Ma la libertà Di non sentirsi Spiati Di non sentirsi Osservati Io voglio Frequentare I peggiori Postriboli Della terra Senza che Nessuno lo sappia O con la mia Pretesa personale Di farlo In maniera Anonima E riservata Voglio essere Libero Di dare I soldi Al barbone Per strada O Di pagare I soldi Alla 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 Mia amante Senza che In qualche modo Io mi senta In qualche modo Tracciato Osservato Che questa informazione Ressi scritta Da qualche parte Questo Fa parte Delle libertà Personali E purtroppo Questo lo perdi Nel momento Tu puoi pensare Di creare Un sistema Elettronico Più Come dire Nel momento In qualche modo Controllati Eccetera Ma comunque Ovvio Che nel momento In cui Si volesse Retroattivamente Si può andare A vedere Quello che è stato E allora E allora È tracciato Cioè È inutile dire No Tutte le informazioni Finiscono in un cassetto Ma noi Ma noi Non le guardiamo Però Il giorno Che volessimo Guardarle Le guardiamo Quello Non è Un pagamento Che non è Tracciato È un pagamento Che non è Osservato In tempo Reale Ma comunque È tracciato No Infatti È abbastanza Chiaro Dal paper In cui Dice Una cosa È l'autenticazione Una cosa È la privacy Quindi nel momento In cui Allora Premesso Che appunto Quello è un paper Di due anni e mezzo fa Che è Come dire Sperimentale E che non si sa Dove si andrà E come ci si Andrà Lui Si dice Insomma Se due persone Questa tecnologia Deve fare in modo Che se due persone Si vogliono Scambiare Una cifra Utilizzando L'euro digitale Devono poterlo Fare In maniera Come dire Autonoma Senza mediatore E offline Ma che comunque Le due persone Siano autenticate Quindi tu sai Chi ti dai soldi E viceversa E come dici Correttamente tu Nel momento in cui Per qualche motivo Quella transazione Deve Viene presa Da un'autorità Giudiziaria O di polizia Nel momento in cui Si va a vedere Chi si è scambiato La Quella transazione Che erano le due parti Autenticate A quel punto Hai perso La Hai perso La privacy Si torna Alla tracciabilità E Poi anche lì Tra le varie cose Che dice quel paper Perché ad oggi Non vuole essere Un sostituto Del contante Anzi Si parla esplicitamente Di controllo Anche abbastanza rigido Sulla quantità Di Digital Di euro digitale Da emettere Per evitare Che poi Questo venga Accumulato Magari da Entità Entità terze Che possano poi Creare Dei movimenti Di mercato Perché poi Ovviamente Quando hai uno strumento Del genere Diventa anche Forse è più facile Scambiarselo O comunque Venderlo O comunque Comprarlo Quindi per evitare Che shock Shock di mercato Del di mercato Sulla moneta Ecco Si vuole Cercare di renderlo In realtà Il meno frictionless Possibile Perché può essere Pericoloso Per la stabilità Dell'euro stesso Però appunto Siamo ancora Nel mondo Delle possibilità Assolutamente Però se pensi Come si sviluppa Velocemente La tecnologia Se questo affare qui In due anni Da un pezzo di carta A preliminare Non ha prodotto Niente altro Non fa molto Sperare In un abbrivio Questo articolo Appunto Sul financial times Faceva pensare A un qualche tipo Di accelerazione O che comunque Qualche entità Abbia interesse A stimolare Un'accelerazione In questo ambito Però Vabbè Staremo Staremo La finestra Vediamo se è preparatorio A qualcosa Che deve succedere Che ancora non sa Ah certo Ah è possibile Questo è assolutamente possibile Abbiamo novità Redditesche Da un paio di giorni Dall'altro ieri Le chiavi API Di molte delle app Che usavamo Per Reddit Sono bloccate Io utilizzavo Apollo E dall'altro ieri Apollo è completamente Dark Lo apri E non funziona Ti propone di comprare Dei wallpaper Commemorativi Di Apollo E della bestiolina Di Apollo Dell'allienino Di Apollo Per aiutare Lo sviluppatore A superare Questi tempi difficili Ma in realtà Quella che uso Io funziona ancora Io uso relay Non so se c'è ancora Anche per iOS Però Non mi sembra Non mi sembra Non lo uso Qualcuno dice Che sta cercando La quadra Per un business model Quindi come dire Non tutti in realtà Abbandoneranno La barca Ci dovrebbero essere Delle applicazioni Che andranno avanti Facendoti pagare L'equivalente Delle chiamate API Come abbonamento mensile La protesta Diciamo che Quanto meno Un po' scemata Ci sono ancora Delle Subreddit Chiuse Ce n'è qualcuna Che ancora Continua con altre Forme di protesta Tipo Marcando tutti i post Come Not safe for work Però Credo che Tolta Una percentuale Di persone Molto scontente Diciamo che Business As usual Oggi Surreddit Possibile Però Lo scontento È abbastanza Diffuso E Anche se Forzando la mano Tante di questi Subreddit Sono state Riaperte Comunque Un colpo Alla credibilità E all'appetibilità Dell'azienda Da parte del pubblico È arrivata Che sia Sufficiente A lasciare un segno O a ridurlo Non ho idea Non è comunque Che Reddit Navigasse in buone acque Dal punto di vista Finanziario Per cui Insomma Bene Un ulteriore colpo Negativo Per quanto piccolo Bene Non può avergli fatto Forse Si potevano ottenere Gli stessi risultati Di limitare Di limitare le app Eccetera In una maniera Molto meno violenta Un po' più educata E un po' più sensibile Alle necessità Di tutti E ci saremmo trovati Tutti Con qualche vantaggio In più Reddit Con più controllo Le app Magari con la possibilità Di monetizzare Di passare Dei soldini a Reddit Gli utenti Meno incazzati Semplicemente Gestendo la roba Un po' meno Da cowboy Però evidentemente Non va di moda Negli ambienti Di big tech Gestire le cose Da gentiluomini Ultimamente Eh vabbè Franco Ma la Silicon Valley È letteralmente Il far west Sì sì Praticamente Storicamente parlato Quello è il far west Quindi sono abituati Alle risse da bar Con le botte a spaccare I saloon I bar I saloon Con le porte Così che si aprono E si chiudono E te le prendi in faccia Se mentre stai entrando Stanno lanciando fuori L'ubriaco di turno Certamente Sfida E con le sfida A chi spara Per primo Certamente Vabbè Visto che siamo In ambito Di ambienti social Un Ho letto Questo appello Di Manton Rees Manton Rees È L'autore Di Micro.blog Se non ricordo male Era anche Uno degli Sviluppatori Originari Di Net Newswire Uno dei Più storici Lettori Di Fida RSS Per il Mac Micro.blog È un ambiente Di pubblicazione Di micro Publishing Una roba Immaginatevi Una Antitesi Una risposta A twitter Scritta E pubblicata Oramai Sei sette anni fa La vedi Mezzo Tra twitter E medium Perfetto Ma già Con Già Allora Progettata Per L'idea Di interoperabilità Con sistemi Esterni E immediatamente Aperta Al fediverso Nel momento In cui Il fediverso Ha iniziato A Prendere Piede L'appello Di Manton Rees È rivolto È la sua Idea Rivolta Alla Possibilità Che Meta O altri Giganti Facciano In qualche Modo Irruzione Tra virgolette Nel Meta Verso Cioè L'idea Attuale È questa Ci sono Progetti All'interno Dei Big Della Tecnologia In particolare All'interno Di Meta Di sviluppare Degli Ambienti Che siano Compatibili Col fediverso E allora L'idea È Se In qualche Modo Zuckerberg Connette Tutti Gli utenti Di Facebook O Una Buona Parte O Una Parte Degli utenti Di Facebook Tutti Direttamente Sul fediverso Arriva Un'ondata Di Selvaggi Sul fediverso E ce lo rovina Rispetto a come Siamo Abituati A Vederlo Noi In questi Giorni Come Posto Di Come Dire Di Di Rifugio Rispetto ai Social Tradizionali Con Delle Dinamiche Molto Più Umane Molto Più Civili E Molto Più Regolari Appetibili Ecco Ma Anton Rees dice Vabbè Non Facciamoci la testa Prima di essercela Rotta Può essere Anzi Una Buona Può essere Un buon Banco Di test Per vedere Se Nel momento In cui Arriva Una Tra virgolette Onda Di Barbari Le I Meccanismi Di Moderazione Del fediverso E Di Aggiustamento Sono Abbastanza Solidi Da Mantenere Gli Ambienti Civili Sì Poi Micro Dot Blog Che È Una Piattaforma Anche Come dire A pagamento Di Hosting Di Blog Costa Se non sbaglio 5 dollari Al mese E In realtà Poi La punta Di diamante Di un Movimento Che si Chiama L'Indie Web Se lo Cercate Su Google C'è un Sito Di Riferimento E Vari Account Che Vuole Proprio Andare A Riportare Un po' Internet A qualche Decennio Fa Figurate Ci sono Anche I Web Ring Te li Ricordi Web Ring Che Ti Fa Schiacciare Bellissimo Ce ne Sono Ancora Alcuni Attivi C'è Una Costellazione Di Blog Di Persone Spesso Sviluppatori Che Sono Connessi Da Queste Tecnologie Un Po Vecchie Micro Dot Blog È Una Di Queste Credo Che C'è Anche La Versione Self Hosted Tra Al SS Dei Blog Tramite Il Vostro Client Del Fediverso Ma Viceversa Anche Interagire E I Commenti Che Voi Fate A Un Post Ecco Da Una Parte Finiscono Come se Fosse I Commenti Di Un Blog Del Post Di Blog Ma Anche All'interno Di Una Timeline Tipo Quella Di Mastodon E Quindi Questo ovviamente Fa da Contraltare A quello Che dicevamo La settimana Scorsa Sulla Reazione Invece Di Alcuni Amministratori Di Alcune Istanze Del Fediverso Che Han Detto No Voi Qui Non Entrate Mantorris Dice Invece Innanzitutto Pensiamo Alla Nostra Tecnologia Perché Oggi Il Fediverso E Il Protocollo Che Lo Alimenta I Protocolli Che Lo Alimentano Sono Migliorabili C'è Ancora Tanto Tanto Da Fare Facciamo In Modo Che Si Vada In Una Direzione In Cui Anche Se Poi Arrivano Questi Grossi Elefanti Noi Siamo Pronti Se Uno Che I Dati Continuino A Circolare In Maniera In Maniera Aperta In Maniera Interoperabile E Cerchiamo Di Sfruttare Al Meglio Questa Situazione Perché Insomma Non è Proprio Solo Come dire Possiamo Trarne Anche Del Vantaggio Perché Nel Momenti In cui Arrivano Le Grandi Aziende Grandi Investimenti Ci Può Essere Anche Un Vantaggio Per Tutti Quanti Nel Momenti In Cui È Tutto Interoperabile Tutto Aperto Ecco Forse Il Rischio Grosso E Forse Quello Dei Costi No Oggi I costi Aumentano Sia All'aumento Dei Tuoi Utenti E ci Sta Ma Aumentano Anche All'aumento Dei Degli Utenti Che Vengono Seguiti Dai Tuoi Utenti Del Feriverso Stesso Alla Fine In Ultima Analisi Sì Per Cui L'idea Oggi Io Lo Vedo Vedo I messaggi Che Arrivano Gli Amministratori Di Mastodon Uno Tutti I Giorni Postano Qualche Lamentazione Spazio Gestire Questi Server Costa Un Casino Siamo Lì Dateci Una Mano E Cosa Ed è Giustissimo Ci Manca L'idea Di Un Qualche Cosa Che Si Sostiene Economicamente Tramite Il Contributo Più O Meno Volontario Di Chi Lo Utilizza E Beh E Quello Che E Quello Su Qui Abbiamo Basato Digitalia Negli Ultimi 14 Anni Per In termini Di traffico Per utenti Non interni Alla tua istanza Ma esterni E questo Provocasse un aumento Del carico Sul tuo server Perché Michele Di Account Deve Ospitare Tutti I post Che Scrive Questa Gente Qua Deve Ospitare Tutte Le Immagini Che Posta Questa Gente Qua Tutti I video Che Posta Questa Gente Qua I miei Costi Rischiano Di Lievitare In Situazioni Come Adesso Che Vediamo Di Equilibrio Precario Si Ce la Facciamo Appena A Contenere I Costi Potrebbe Essere Una Spallata Che Rischia Di Mettere Veramente In Crisi Se Non I Medio Grossi Player Quelli Più Piccoli Per Cui Si Va Bene Però Giusto Concentriamoci Sulla Tecnologia E Facciamo In Modo Che Questa Cosa Scali In Maniera Più Più Lineare E Meno Violenta Specialmente Dal Punto Di Vista Delle Risorse Consumate Quindi Dal Questa Serie TV Nuova The Rabbit All Non Ne avevo Sentito Parlare Ho Visto Questo Articolo Su Wired È Un Qualche Cosa Di Paramount Plus Con Kiefer Sutherland Ed Pare Pare Che Sia Molto Molto Radicata Sulle Problematiche Di Oggi Social Big Tech E Robe Del Genere Adesso L'elemento Tech Si insinua In un momento Narrativo Molto Tradizionale Lo scambio Dialettico Qui Mi sono Per Non so Perché Ogni tanto Il plugin Che utilizzo Per Sottolineare I passaggi Si perde Sottolineature Niente Andatevelo A leggere Io andrò A vedere E Vi racconterò Se Meriterà Ve lo Fateci Sapere Se l'avete Visto Se l'Uomo In Fuga Ecco Se l'Uomo In Fuga È un grande Classico Del genere La fiction Con Kiefer Sutherland Diventa Puntata Dopopuntata Un viaggio Una stretta Attualità Per raccontare Cosa succede Quando la tecnologia È piegata Da logiche Perverse Non è male L'idea Eh no Poi anche perché Siamo un po' Orfani Della una stagione Di Black Mirror Che Non era molto Digitaliana In generale Non è stata Molto apprezzata Quindi dobbiamo Trovare qualcosa Di diverso Nella prima puntata In scena Un saggio Affascinante Ma anche Disturbante Di manipolazione Dell'informazione Grazie alla tecnica Del deepfake John Wire E il suo team Come viene spiegato Dopo Si adoperano Per far crollare Le azioni Di un'azienda E favorirne L'acquisizione Da parte di un'altra Grazie a un semplice Realistico servizio Da all news L'elemento tecnico Infatti si insinua In un momento Narrativo Molto tradizionale Uno scambio dialettico Eccetera eccetera Quello che vi ho letto prima Insomma Sembra un qualche cosa Che abbia qualche richiamo Digitaliano Purtroppo Paramount Plus Mi dispiace Mi rifiuto di pagarlo Paramount Plus È L'ultimo Forse Big Che si è presentato Con un suo Ambiente di streaming A pagamento E sta pagando Secondo me Il fatto di essere arrivato Almeno da noi in Italia Nel momento del grande riflusso Cioè fondamentalmente Di nuovo È la terza volta Che la nominiamo In questa puntata Ma nel post pandemia Quando la gente Forse ha capito Che No Dopo essersi abbonata A Twitter A Dazzone A Disney Plus Dopo avere Pagando Prime Magari da qualche tempo Finita la pandemia Vivendo un po' più all'aperto Si accorge di avere Già oramai Troppi abbonamenti Di pagare alla fine del mese Molto più di quello Che pagava una volta Quando pagava solo Abbonamento a Skype Guardare meno roba E l'idea che arrivi Un ulteriore servizio a pagamento Beh Forse Mi sto già Sto già pensando Se cancellare gli abbonamenti A quelli preesistenti Paramount Plus Non guardo neanche cosa c'è dentro No infatti Anche perché Ci sono altri metodi Non lo so Se poi ci sia Sonic C'è South Park C'è il nuovo Top Gun Ma Grazie Ma io Questa musica Mi riempie La soluzione È sempre quella Ragazzi Che vi dobbiamo dire Sono tempi difficili Sono tempi difficili Dai Per Paramount Plus Sì Cucuroma Signore e signori Di Gingilli del giorno Gingilli del giorno I regali dei digitaliani Per i digitaliani A fine trasmissione Le voci digitali Alle due voci In questo caso Digitali Selezionano per voi Hardware Software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia attinenza Digitaliana Che abbia colpito La loro curiosità Stravolto la loro esistenza O qualsiasi sfumatura Nel mezzo Vediamo 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 Chi facciamo cominciare Chi facciamo cominciare Michele Dai Non ho studiato Allora Nel mio stack Di ascolto musicale Che Negli ultimi mesi Ho cercato Ho cercato un po' Di differenziarmi Soprattutto Nella fase Di scoperta Dalle classiche Playlist Algoritmiche Di Spotify Ad esempio Utilizzo Tantissimo Bandcamp Utilizzo Hype Machine Appunto Per cercare Nuove Nuove cose Da ascoltare L'ultima cosa Che ho inserito Nel mio stack È questa piattaforma Che si chiama Rate Your Music RYM Che è un raccoglitore Di segnalazioni Di segnalazioni musicali Ovviamente Molto incentrato Sull'indie Sui piccoli Sui piccoli Artisti Sui piccoli Produttori Che però Appunto Fa anche un bel lavoro Di andare A segnalare Delle cose Che appunto Magari Non trovi Su altri Su altri Su altri Su altri siti Su altre piattaforme O comunque Come dire Te li devi andare a cercare Perché non te li segnala L'algoritmo Sì Lo trovate Su RateYourMusic.com Ci sono poi Tutte le Ci sono le classifiche Si può andare Per generi C'è la community Molto molto attiva E ovviamente Poi i link Per ascoltare Sulle piattaforme esterne Se poi vi piace Come concetto Hanno credo Lo stesso Lo stesso format Anche per i film E per i video I videogiochi RateYourMusic.com Poi ti rimanda Le piattaforme di streaming Per ascoltarle Eh sì Eh sì Quindi se c'è Su Apple Music Spotify O anche su Bandcamp Ci sono tutti i link Per ascoltarli Ti rimanda A quello Molto molto interessante Non lo conoscevo proprio È bello Grazie Michele Eh Visto che Le I casi di Cronaca nera Dell'ultimo periodo Hanno sicuramente Attirato l'attenzione Di molti Verso le profondità marine Mi è cascato sotto gli occhi Questo gingillo del giorno Invece che vi porterà Un po' più di piacere Un po' più di allegria Nel momento in cui pensate Alle stesse profondità marine Ed è un utilizzo creativo Dello scrolling Il meccanismo alla base Dei siti internet È veramente bello Si chiama The Deep Sea Ed è un sito internet Che quando lo aprite Vedete una scritta The Deep Sea L'autore Made with love By Neil Agraval E le onde del mare Dopodiché Quando iniziate a fare Lo scrolling Iniziate a vedere Un indicatore di profondità Che man mano Che fate scrolling Ovviamente va sempre più a fondo E man mano Vedete le creature Gli esseri viventi Che vivono A determinate profondità O che arrivano al massimo A quella profondità Per cui dal salmone atlantico Che vive a tre metri Di profondità Fino al orso polare Che arriva a 33 metri Questo non sapevo Che un orso polare Potesse arrivare a 30 metri Di profondità Vi stupite In questo viaggio È lunghissimo Perché arriva A oltre i 10.000 metri Della fossa delle Marianne E vi accompagna Pian piano In questo viaggio A scendere A scendere A vedere Con curiosità Dove arrivano Determinate creature Che tutti conosciamo E che non ci aspetteremmo Avete idea Di quanto può arrivare Un mammifero Come un delfino Un beluga E provate a immaginarlo Andate a vedere Con Deep Sea E scoprirete Che probabilmente Vi sbagliate Stimate molto Al ribasso E arrivate anche Con questo Nelle ultra profondità marine Dove non arriva la luce Iniziate a scoprire Dei Degli esseri viventi Sempre più strani E più particolari E vi porta Fino alle massime Profondità Esplorate dall'uomo Non vi rovino La sorpresa Però piano piano Andate fino in fondo Fino in fondo Fino in fondo E sicuramente Vi piacerà Scrivetemelo Se vi piace Non ve lo ricordiamo Spesso Ma c'è il nostro Slack Digitalia.fm Slash Slack Che è una chat Multicanale Dove la community Digitalia Interagisce E chiacchiera Tutta la settimana Scrivetecelo lì O se volete Mandateci un messaggio Con l'email O legatecelo Alla vostra donazione Da produttori esecutivi Della prossima puntata O di una delle prossime puntate Di Psi Il secondo gingillo Del giorno per oggi Lo trovate insieme A tutti gli altri link Nelle note della puntata L'indirizzo è facile Digitalia.fm Slash 681 Michele fallo tu per una volta Il richiamo per orecchiette fresche Va sono gli ultimi saluti finali Allora Così è così Alla sprovvista Allora L'ultimo richiamo della puntata È sempre quello All'orecchiette fresche Quindi ricordatevi Di consigliare Digitalia A vostri amici Cari Parenti Insomma Tutti quelli A cui volete bene E niente Gli farete fare sicuramente Farete anzi voi Sicuramente Bella figura E basta E date una mano a Digitalia Oltre che fare un piacere A vostri amici E perché no Dite di cercare Digitalia Dove vogliono Noi cerchiamo di farci trovare Più facilmente possibile Sulle applicazioni per podcast È il posto più facile Ma anche se ci googlano Se ci youtubano Se ci twitchano Ci trovano anche in diretta Lunedì sera Perché no Anche in video Ci vedono come siamo brutti In faccia Ma il podcasting È sempre lo strumento preferito Digitalia È un podcast Tutto il resto È contorno Per questa 681 è tutto Dall'emistudio Liguria 1 Di Sanremo Un saluto da Franco Solerio E dallo storico di Miano Iso Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Dall'emistudio Liguria 1 Dall'emistudio Liguria 2 Dall'emistudio Liguria 3 Dall'emistudio Liguria 4